Movida Pescarese, buonasera! Oggi, sabato 8 giugno, il Pepito inaugura la grandissima serata I Vamos Reggaeton Party Let's go to dance! Dovessi rinascere uomo, qual è la prima cosa che faresti? Pipì in piedi Scoparmi tutte Ma capito! Vi fare tanti soldi Andare a letto al primo appuntamento, sì o no? No Ma che storia è questa? Che sono all'antica No Perché? Meglio fargliela sudare Questa cosa è incredibile No, assolutamente no Ricordatevelo, eh! Dipende Attesamente il desiderio Siamo sicuri che Alicia la dà al primo appuntamento Grazie a Dio Cosa pensi della ex del tuo ragazzo? Scusa, cosa hai detto? Per fortuna non le conosco ancora Sono ammazzata No, non le voglio conosce È meglio Domanda successiva? No comment Ah, perché ne ha tante? Sì Magari una ti sta simpatica No, non penso Te stronze Tutte stronze Ok, va bene, è meglio non andare oltre Ti piace il Pepito? Alla grande E in una serata come questa Come quella del Pepito Cosa non può mancare, secondo te? Il letto Questo lo sapevo I baristi buoni, dai, diciamolo Banana o patata? Patata Da cosa si ricava la vodka? Dalla patata o dalla banana? Dalla patata Dalla patata a prescindere Anche senza vodka, la patata Fantastico Che cazzo è Stai scherzando Cosa ne pensi? Dei matrimoni eterosessuali Ehm 50 e 50 Perché 50 e 50? Non li vedo Non li vedi? No Il matrimonio deve essere Ma come donna? Assolutamente no Non c'è problema Sì, è vero Che ne penso? Non sono contro A cosa? Ai matrimoni eterosessuali Non lo so Venite a Pepito Sempre, tutti i sabbati Adio 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 Adio